musica eh sto registrando ha un po' bevuto stasera il nostro amico Jonathan ah si bebe piaggio avventura però è il vino guarda un po' qualcosa di secco cosa fa lo spoglierello ma tu ti lo vici di partire per piaggio avventura facci i backstreet boys e dai falla mi prendo un perpazzo e guardate il bel buco che c'è nel muro questo risale questo risale a due settimane fa housewarming housewarming e Jonathan ha spaccato il muro io so perchè ma non si può dire non si può dire perchè che ballerina ragazzi prometto eh perché va a pisciare molto pisello cosa si fa è un altro questo non c'è questa oddio santo ho insistito ora lo fa oddio santo tanto si va fuori si che si va fuori sembri frocio grazie se fa questo il che sembro se ti diamo pantaloni il che sembro sembri frocio ciao tiziano ciao claudio per amici moturismo station questo è il momento in cui il mostro è l'italiano e non sono gay levando i pantaloni natali e facendo tutto ahia non mi morte ti dici sono gay e io non mi fai questo no 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 non sei gay ma no no però loro si quelli della festa sono gay si fighi tutti e le ragazze sono lesbi non lo eh tu credi no guardate che addominale la cosa più bella è questa questa cosa no questa quella insomma ragazzi stasera ci hanno invitato una festa invece era allora ci hanno detto c'era da mangiare l'unica cosa che mi ha mangiato era tre cracker con il formaggio quindi io bevo il vino perché volevo bere il vino insieme al cibo invece io bevo il vino insieme al cracker e quindi sobbriavo perché non mangiavo nulla però so raffreddavo eh chi è